Kojo è un ambiente di coding direttamente ispirato al logo di Puppert. È un'applicazione che va prima scaricata e installata sul proprio computer, funziona quindi offline e non richiede necessariamente una connessione per essere usata. Partendo dal sito di Kojo e cliccando su Download Kojo, si passa alla pagina che fornisce link e istruzioni per scaricare la versione adatta al proprio sistema operativo. Localizzate la vostra, ad esempio per Windows è sufficiente scaricare l'installer con estensione .exe e seguirlo sul proprio computer, seguire i passi di installazione proposti, spesso è sufficiente confermare le opzioni di default suggerite ed è fatta. Una volta installato lo apriamo ed ecco cosa vediamo. Notate i tab che corrispondono agli ambienti di lavoro e programmazione di Kojo, area 3D, allenamento all'aritmetica, area matematica, area di disegno. Noi ci soffermeremo all'area di disegno, quella che di fatto corrisponde al linguaggio similogo e che useremo come strumento di coding per i nostri progetti ad esempio. Vedete al centro della pagina una tartaruga, elemento iconico caratterizzante il linguaggio logo e che di fatto rappresenta una specie di robot pronto ad eseguire i comandi che andremo a scrivere nel riquadro in basso a sinistra. I comandi sono espressi seguendo la sintassi definita dal linguaggio Kojo, molto simile al JavaScript, che vedremo più avanti parlando dei linguaggi del web. Grazie a tutti.